La Liguria e il Cile In queste fotografie si parla tantissimo di questo grandissimo interesse che c'è di queste popolazioni cilene nel ritrovare l'origine sua perduta. Questa fotografia c'è nell'archivio della mia famiglia, è una fotografia dove ci sono gente di Sori che è emigrata in Cile e c'è gente dopo che è rientrata qua in Italia a Sori. Infatti posso chiamare una persona che... Paolo vieni qua, c'è la mamma di Paolo qua, Paolo Stagno, c'è la mamma e questa è una cosa molto simpatica fino a essere commovente. Sì, è vero, è vero, c'è mia mamma, mia nonna, i loro... Tutti i parenti siamo, perché Paolo ha più parenti in Cile che... Che in Italia, sicuramente.